62enne rapinato in pieno centro a Fano, arrestato dai carabinieri un 27enne nigeriano con precedenti penali. Recovery in aumento e boom di contagio nelle Marche, più di 160 casi in 24 ore, maglia nera per la provincia di Pesaro Urbino. Noa il Green Pass, proteste in tutta Italia contro l'obbligo imposto dal governo, si tina anche a Pesaro in piazzale della Libertà. Nelle farmacie adesso è corsa ai tamponi a scaricare il Green Pass in aumento le richieste di aiuto da parte degli anziani. Guasto all'acquedotto, rubinetti a secco in tutto il comune di Pesaro, operai al lavoro e volontari in campo per distribuire acqua potabile. Sabato e domenica torna Fano alla Festa del Mare, niente fuochi d'artificio ma momenti commemorativi ed eventi collaterali dislocati sul lungomare. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. In apertura l'aggressione è avvenuta giovedì scorso nel centro storico di Fano dove un uomo è stato aggredito e derubato. I carabinieri hanno arrestato un 27enne che ora dovrà rispondere di rapina aggravata. Suo carico ci sono già due ordini di espulsione ma mai ottemperati. Lo ha avvicinato con la scusa di una sigaretta, la vittima gliela data, ma il giovane ha continuato a seguirlo, poi lo ha aggredito. Sono stati attimi di paura quelli vissuti in pieno centro a Fano da un 62enne di Chiaravalle. I fatti risalgono al 22 luglio scorso. Era da poco passata la mezzanotte quando l'uomo, dopo una serata trascorsa con gli amici in piazza Andrea Costa, ha deciso di ripartire passando per via Froncini. All'altezza del Conad è stato raggiunto da un ragazzo nigeriano che dopo averlo seguito lo ha stretto verso una zona poco illuminata, in corrispondenza di un cantiere edile. Qui gli ha intimato di consegnargli il portafogli e lo ha strattonato dalla maglietta strappandone in più punti, poi lo ha aggredito con un oggetto contundente. Il 62enne si è difeso coprendosi il volto con le braccia, ma è stato scaraventato a terra e privato del portafogli e che aveva nella tasca dei pantaloni. All'interno c'erano i documenti, il banco, ma che 40 euro in contanti. L'uomo, una volta medicato sul posto dai sanitari del 118, non ha avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso, ma nel frattempo un testimone seduto sulla scalinata dell'ex chiesa di San Francesco ha lanciato l'allarma ai carabinieri. Grazie a questa segnalazione i militari hanno rinvenuto nella stessa via un collo di bottiglie in vetro rotto, ritenuto l'oggetto usato durante l'aggressione e si sono messi subito sulle tracce del giovane. L'acquisizione delle immagini sia dall'impianto di videosorveglianza comunale che da alcuni sistemi privati ha permesso ai carabinieri di dare una fisionomia, ricercato e di ricostruire la via di fuga. L'epilogo si è avuto sabato mattina quando il ragazzo, un 27enne, è stato intercettato in via Montevecchio, ma la vista della pattuglia si è direguato a piedi. Sono stati quindi chiamati rinforzi e il nigeriano, visto al pincio, ha tentato nuovamente la fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. Il giovane che era vestito con gli stessi indumenti immortalati dalle telecamere è risultato irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. Ha già dei precedenti e a suo carico ci sono due ordini di espulsione mai ottemperati. È stato quindi portato nel carcere di Pesero e questa mattina è stato convalidato il fermo. Dovrà rispondere di rapina aggravata. Contagi in rialzo nelle Marche. In un giorno ne sono stati rilevati 162. La provincia più colpita è quella di Pesero Urbino con 41 positivi. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi legati al Covid, ma i ricoveri sono in aumento. Più 5 rispetto a ieri per un totale di 21. I pazienti in terapia intensiva rimangono 4, mentre quelli in semi-intensiva salgono a 3. E continuano le proteste in tutta Italia contro l'obbligo del Green Pass imposto dal governo. Allora ci spostiamo a Pesero dove si sta svolgendo un sit-in che sta seguendo per noi Angelica Panzieri. Buonasera Angelica, dove ti trovi? Buonasera Simona, siamo qui in Piazzale della Libertà, la palla di Pomodoro, dove sta per iniziare la manifestazione organizzata dal Comitato Salute e Diritti per dire no al Green Pass, la certificazione verde che il governo renderà obbligatoria dal 6 agosto prossimo. Abbiamo qui con noi un ospite, un membro del Comitato, Simona Pensalfine. Simona, perché siete qui oggi? Quale messaggio volete lanciare con questa protesta? Allora, noi siamo qui oggi per manifestare contro il Green Pass perché l'Ede secondo noi ha a nostro avviso dei diritti fondamentali che ognuno di noi ha e va anche a modificare secondo noi quello che è il regolamento UE 2021-1953 del Parlamento europeo che afferma che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate. Per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui i vaccini anti-covid è attualmente somministrato o consentito come i bambini o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate e hanno scelto di non essere vaccinate. Il vaccino non previene i contagi e Draghi è stato smentito da questo. Quindi chi è vaccinato non dovrebbe avere un lascia passare perché non viene garantito che il vaccinato sia immune perché può comunque trasmetterlo il covid e di conseguenza mettere questa etichetta Green Pass per poter accedere a delle cose che dovrebbero essere libere per tutti. Per noi è una cosa che non è assolutamente accettabile. Quindi contro il Green Pass ma anche contro il vaccino possiamo dire? Siamo contro il Green Pass e mettiamo in discussione il vaccino perché tutto ruota intorno al vaccino cioè chi è vaccinato può avere il Green Pass ma il vaccino non è detto che funzioni perché ci sono persone vaccinate che possono comunque prendere il covid anche se hanno il Green Pass e possono contagiare. Quindi noi siamo contro la discriminazione del Green Pass. Il vaccino è un qualcosa in più che io ti dico perché nel momento in cui dicono che non copre al 100% che senso ha rilasciare un lascia passare? Che senso ha? Ecco Angelica vedo che c'è un altro ospite alla tua sinistra. Ecco Simona lo avete sentito? Sì abbiamo un altro ospite, un cittadino pesarese, non fa parte del comitato ma ci ha spiegato che appoggia le idee di questa manifestazione. Perché? Io sono qui per dire che la libertà non è una variante, è un diritto inviolabile. Poi noi abbiamo già il Green Pass e si chiama Costituzione italiana. Vogliono metterci l'uno contro l'altro solo per nascondere quelli che sono i fallimenti di un governo e quindi il vecchio detto dividi e impera è più che mai attuale. Penso che qualsiasi persona che è nata libera non ha bisogno di un certificato per dichiararla tale. Ecco una curiosità, ha fatto lui il vaccino e anche un Novax oltre a un no al Green Pass? Glielo chiediamo subito, lei il vaccino l'ha fatto e anche un Novax o solo un no al Green Pass? Io non l'ho fatto perché come forse non lo dicono, quello vaccino è autorizzato, non approvato. tant'è vero che devono far firmare una montagna così di esone e di responsabilità per quello. Quindi ognuno ha la libertà personale di non essere una cavia e in più c'è anche da dire che se un altro individuo si sente protetto, si sente protetto nel aver fatto il vaccino non vedo che problema ha l'imporlo agli altri. Non so se ci sentite Simona perché alle nostre spalle sta iniziando la manifestazione, sono tutti qui in centinaia che urlano no al Green Pass. Grazie Angelica, a te e i tuoi ospiti, continuerai a seguire questa manifestazione ma noi andiamo avanti con il telegiornale perché occorre riconoscere il Green Pass anche a chi si è vaccinato con Sputnik, ma lo ha sottolineato la deputata del PD Alessia Morani, il mancato riconoscimento, sottolinea, crea problemi per il turismo ma non solo, in particolare la provincia di Pesero Urbino confina con San Marino dove la campagna vaccinale è stata effettuata proprio con questo vaccino e si segnalano molti problemi per i cittadini della Serenissima che devono spostarsi in Italia. Occorre quindi superare il paradosso con un farmaco, conclude Morani, che l'OMS ha inserito nel programma COVAX ma che nel nostro paese non viene riconosciuto per il certificato verde. Intanto è corsa alle farmacie per fare i tamponi e scaricare il Green Pass. Tra i richiedenti ci sono soprattutto persone anziane che non hanno dimestichezza con i servizi online. Prima la corsa alle mascherine, poi la richiesta dei vaccini ed ora quella del Green Pass in farmacia per il quale bastano solo pochi minuti. Tante le richieste anche per i tamponi rapidi necessari per una carta verde temporanea. Al contrario i test sierologici, cioè i pungi dito, non si utilizzano quasi più. Principalmente richiedono il tampono persone che si devono spostare per motivi di lavoro, per motivi di piacere, che devono comunque partecipare a congressi, anche se vaccinati, perché comunque è richiesto ugualmente. Per i test salivari invece, i cosiddetti lecca-lecca, si è ancora in attesa delle linee guida. Una delle possibilità, come spiega il presidente provinciale dell'ordine dei farmacisti, è quella degli autotest, che possono essere fatti comodamente a casa. Ma il farmacista si deve accertare che l'acquirente conosca bene le modalità per l'utilizzo in modo da minimizzare i possibili errori di esecuzione che potrebbero portare a dei falsi negativi. Vengono richiesti in particolare da coloro che hanno sintomi. Perché in farmacia non possono essere effettuati dei test a persone con sintomatologia respiratoria o con febbre superiore a 37,5 gradi centigradi. Però se uno lo fa a casa poi non viene documentato. Esatto, se uno lo fa a casa poi non ha nessuna certificazione, quindi non è valevole per il discorso di Green Pass o altro. Il certificato verde, prosegue Pierini, può essere stampato in farmacia. Fano tutte hanno aderito gratuitamente per aiutare i cittadini. I farmacisti sono resi disponibili a questo servizio per venire incontro, soprattutto alle persone un pochino più anziane o che hanno poca dimestichezza con i sistemi informatici per ottenere questo documento. Richieste in aumento sia per i test che per il Green Pass in tante farmacie della città. Ci sono molte richieste per i tamponi? Chiaramente da quando è uscito l'obbligatorietà del Green Pass abbiamo tante richieste in più, li effettuiamo su prenotazione al prezzo calmerato di 18 euro. Invece per la certificazione verde come funziona? Basta presentarsi semplicemente con la tessera sanitaria e recuperiamo e stampiamo il Green Pass. Chiaramente sappiamo che ne ha diritto chi ha effettuato o la prima o la seconda dose. Generalmente dalla seconda dose si prendono più o meno 24-48 ore prima di poterlo stampare. Si parla di un boom di richieste, effettivamente sono tante? Esatto, come dicevo prima per i tamponi sono aumentate tantissimo, giustamente, visto la necessità che c'è. Un sostegno, una tantum di 700 euro per i lavoratori dello spettacolo dal vivo e di 1000 euro per i professionisti e le imprese degli eventi di settore. Lo prevede una delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla cultura Giorgia Latini. A disposizione ci sono quasi 1.600.000 euro e in particolare le sale cinematografiche beneficeranno del contributo per ogni schermo fino a un massimo di 5.000 euro. Ancora cronaca, Bocconi avvelenati a Sassoferrato in provincia di Ancona. Ieri i carabinieri sono intervenuti in località Monterosso dopo la segnalazione di un cittadino. Come da protocollo è stato attivato il nucleo cinofili antiveleno, visto che la pericolosità delle esche riguardano solo gli animali ma anche l'ingestione involontaria da parte di bambini in tenera età. L'area è stata bonificata e il Comune ha provveduto a mettere dei cartelli per invitare a prestare la massima attenzione. Dai primi accertamenti si ipotizza che le esche fossero destinate a gatti e cani dei residenti. I militari proseguono le indagini per risalire ai responsabili che rischiano la denuncia e fino a due anni di reclusione. Rimaniamo sempre a Sassoferrato perché nel giorno dell'allerta gialla per gli incendi buschivi nelle Marche un pensionato ha deciso di bruciare il frascame del suo orto nel vicino campo di stoppie. I carabinieri forestali hanno sanzionato l'uomo per aver acceso il fuoco senza le dovute cautele prescritte dalla legge e in un periodo di massima pericolosità. Lo avevano anche ammonito di spegnere accuratamente le fiamme e le bracci visto il vento. L'uomo però pur spegnendo il fuoco non ha prestato la dovuta attenzione ed è andato a pranzo. Poco dopo il rogo si è propagato nei campi vicini bruciando circa 5 ettari di stoppie, alberi, siepi e boschetti. Sul posto sono intervenuti pompieri che hanno domato le fiamme alte fino a 4 metri. Il pensionato è stato denunciato e ora rischia fino a 5 anni di reclusione oltre al pagamento dei danni provocati alla vegetazione e alle spese di spegnimento. Strade con la brodo e pericolose per pedoni e ciclisti. A Cucurano di Fano i residenti lanciano un appello al comune per chiedere i lavori di asfaltatura. Il quartiere è stato dimenticato, hanno detto, e lasciato all'abbandono. Servizio di Letizia Marchionni. Potrebbe sembrare la faglia di Sant'Andrea ma in realtà si tratta di via Muzio-Scevola. Così un segnalatore ha scritto alla nostra redazione per far luce sulla situazione di abbandono in cui versano le strade a Cucurano di Fano. La via è da tempo lasciata al totale abbandono tra buche e spaccature che la rendono estremamente pericolosa ed insidiosa. Ma il problema, hanno spiegato i residenti, non si risolve con un semplice strato di catrame perché le spaccature si ripetono. E' la strada che è ingobbata con delle fenditure notevoli e dove è molto pericolosa perché se uno in bicicletta va dentro si può rimanerci la ruota dentro e incassata. Il problema non si ferma a via Muzio-Scevola. Nel quartiere Fanese, ha spiegato Ludovico, ci sono numerose strade ridotte in condizioni penose, pericolose per chi cammina e per chi va in bicicletta e che richiedono urgentemente un'asfaltatura. Davanti alla scuola elementare di Cucurano, proprio in questa piazzetta qui che è un parcheggio, possiamo vedere subito le condizioni in cui si trova l'asfalto qui vicino, quindi è molto deteriorato al limite della decenza. Quindi poi si passa di là che è via della scuola, appunto andando verso la Flaminia si può vedere benissimo lo stato in cui si trova quella strada, anche quella in condizioni indecente. Via Po, poi questa qui via Urbino che va verso la chiesa, anche questa non è nelle condizioni ideali, insomma si può vedere, per poi prendere via della stazione. Dovevano farle delle asfaltature, sappiamo, poi c'è stato il Covid, si è bloccato tutto, però adesso a che punto siamo? Cioè vogliamo riprendere questo discorso e portarlo a termine. Quando anche di notte si va a letto, si sentono le persone con i motorini che filiano troppo forte, a parte quello dipende anche da su e giù della strada, con il camion, dagli sei della mattina fino alla sera tardi si sente sempre queste cose. L'asfalto comincia a rompere, dopo si scheretola continuamente, infatti si vede l'asfalto nuovo, l'ultimo che hanno fatto, che è sopra, si apre quello sotto, e sotto dopo diventa lo scalino, e lì è pericoloso, e allora bisognerebbe fare qualcosa. C'è poi anche la questione delle fogne, completamente intasate. Alcune, ci dicono i residenti, sono diventate vere e proprie fioriere. È chiaramente un problema da affrontare per tutta la sua generalità, perché non può darsi che non ricevano più l'acqua, e quindi può essere un problema se può venire un acquazzone violento, ci sono le fognature da tenere bene in considerazione. Un'opinione nostra è che il Comune non è molto attento alle condizioni della cittadinanza di Cucurano. Possibili disagi al traffico su Via Trave a Fanno, all'altezza della palestra, a causa di alcuni lavori. Come è avvenuto oggi pomeriggio, anche domani mattina, la viabilità potrebbe subire delle variazioni temporanee. E disagi anche a Pesero, ma per la mancanza di acqua da oggi pomeriggio alle ore 15. Ad annunciarlo con un post pubblicato su Facebook è stato il sindaco Matteo Ricci. A causa di un guasto all'acquedotto principale, ha scritto il primo cittadino, l'erogazione è stata interrotta in tutto il Comune. Marche e molti servizi informa che i lavori stanno procedendo e che, se non ci saranno imprevisti, entro la mezzanotte tornerà gradualmente acqua in tutti i quartieri, prima nei piani bassi e mano a mano in quelli più alti. È stata una rottura pesante nei pressi di Cucurano, ha spiegato Ricci, ma le riparazioni stanno procedendo al meglio e questo ci conforta. Vista l'emergenza, sia Marche e molti servizi, che sei squadre della protezione civile, hanno distribuito acqua in bottiglia in diversi punti della città. E adesso cambiamo argomento perché questo fine settimana torna a Fanno la Festa del Mare. Non ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio per evitare assembramenti, ma verranno celebrati diversi momenti commemorativi, ma anche eventi collaterali. Ha seguito per noi la conferenza stampa Filippo Pucci. Il 31 luglio e il 1 di agosto torna a Fanno la Festa del Mare. Questa mattina la presentazione della manifestazione con la riconferma degli eventi collaterali della Santa Messa ed infine dell'uscita in mare. Dopo la cerimonia ristretta dello scorso anno, che ha visto solo la deposizione di una corona d'alloro dai quadri del molo di Ponente, quest'anno, in occasione della 62esima edizione, l'assessorato al turismo del comune di Fanno, insieme ad alcune associazioni del territorio, hanno stilato un programma che vede diversi momenti in presenza e in sicurezza. E per questo si realizzarà, come sempre, il momento di commemorazione la domenica mattina, che partirà dall'alza bandiera il Monumento ai Caduti, per arrivare alla benedizione della tempesta, alla Santa Messa, ufficiata da Monsignor Trasarti, alle ore 10, proprio davanti al Monumento ai Caduti, tra l'altro quest'anno con una tensostruttura più capiente, che quindi potrà anche ospitare più persone, in completa sicurezza, fino ovviamente ad arrivare alla classica deposizione della corona. Poi ovviamente si trarrà la classica uscita in mare, con la deposizione della corona, insieme alle imbarcazioni di alta di porto, e i classici tre giri, che insomma si realizzano in onore dei caduti del mare. La festa del mare, poi, aggiunto all'assessore, prosegue con altri appuntamenti dedicati al tema, come la lettura di brani e posie in vernacolo fanese, sia sabato che domenica alle ore 21, nella zona antistante, il Monumento dei Caduti di Via Nazario Sauro, e a seguire la proiezione del film Pescamare. Niente fuochi pirotecnici, ma altri appuntamenti proseguiranno domenica 1 agosto ai bagni Caffè Arzilla, tra questi il concerto all'alba, in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Rossini. Alle 5.30, in fantastico concerto all'alba, un'attività laboratoriale per i bambini che riguarda il mare, che si terrà alle 18.30 Caffè Arzilla, o alle 19 da parte del ridosso, sia sabato che domenica, alla Cavea del Lido, e poi alle 21 ai bagni Caffè Arzilla, la proiezione del film di Anna Magnani, in uno dei luoghi dove praticamente la famiglia di Anna Magnani ha avuto casa. Quindi una serie di eventi in tutta sicurezza, un po' rivisti, ma che comunque mantengono fede alle grandi tradizioni che ha la città di Fano a riguardo del mare. Grande evento di Pugilato sabato sera all'Anfiteatro Rastat di Fano, dove le gare permetteranno agli atleti di scalare le classifiche nazionali e mondiali. Iniziano gli eventi a Rastat sabato, un'iniziativa di box? Sì, la Miami finalmente fa un'organizzazione a livello internazionale di box a Fano, nella piazza che è in Fano, la piazza Rastat, anzi l'Anfiteatro Rastat, a Sassonia. Di che cosa si tratta? Si tratta di un evento, come dicevo, di livello internazionale, dove i Pugili, vincendo i Pugili professionisti, saliranno di classifiche e poi fare l'etituto mondiale. Gli altri Pugili Elite, ci sono due, che saranno classificati a livello italiano, per fare l'etituto italiano. Inizierà verso le 19, le 19, le 30, con l'Elite, i professionisti, verso 20, 21. L'ingresso sarà libero o bisognerà pagare un biglietto? Bisogna pagare un biglietto di 5 euro per entrare. Si può acquistare qui al Proloco, da Gino, sino sul posto. Ho sempre organizzato un'inziata a Fano, mi conoscete, e questa volta sarà uno degli eventi più in di quest'anno a Fano. Quindi vi prego, vi chiedo, di assistere a questo avvenimento, che è molto importante. Il nostro telegiornale si chiude con lo sport. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla nuova guida turistica del Comune di Mondolfo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie.